Buongiorno, quello che andremo ad inaugurare oggi è il defibrillatore numero 105 presente qui a Legnano. Il defibrillatore, spero che ormai lo sappiano tutti, è uno strumento fondamentale per intervenire nei casi di arresto cardiaco quando si apre quella finestra che dura 5 minuti, quando il pendolo del destino oscilla tra la speranza e la tragedia si può utilizzare questo strumento per salvare la vita di una persona. Le statistiche ci dicono che almeno il 50% delle persone colpite da un arresto cardiaco possono essere salvate, possono tornare soprattutto ad una vita normale. Chiudiamo il discorso ringraziando la famiglia Accorsi che ha donato questo defibrillatore in memoria di Marie Therese e quindi lo mette a disposizione di tutta la cittadinanza per garantire la sicurezza dei cittadini.